Marco Grifini, Presidente di DAI di Amici dei Bambini. Noi siamo presenti a questo settimo incontro mondiale con un bel titolo La famiglia lavora la festa, ma ci siamo posti un problema. Ma quando la festa non c'è, cioè quando milioni di bambini abbandonati non hanno un padre o una madre, quando milioni di coniugi non hanno un figlio, come possono festeggiare la festa? Allora noi il messaggio che volevamo lanciare da queste giornate di Milano è i bambini devono essere figli, quindi voi, coppie, adottate i bambini abbandonati. Questo è il messaggio, fate la festa, fate la festa con loro, adottateli questi bambini.